Terminato l'incontro, valido per la tredicesima giornata della fase regolare del campionato nazionale di Serie 2, abbiamo per i Fronica, professore Manemana, Mariotti al microfono, un commento sulla gara di questa sera? Allora, secondo me è stata una gara molto combattuta, dal primo minuto non sono mancati scontri anche fisici, cosa che... No, allora, a parte qualche cartellino di troppo che secondo me si poteva evitare, le partite... Sì, qualche modo di eccesso in pista, anche la transagonistica della gara, dai! No, quello secondo me è quello che fa bene all'Ochi, secondo me l'agonismo è la cosa migliore, infatti ho parlato anche con il capitano vostro, non ci sono problemi, quello succede in pista, rimane in pista, peccato che abbiamo preso subito... Sì, sì, ed è bene così, ho parlato anche con il nostro giocatore, si è scusato con noi, ma peccato per il rosso subito, abbiamo giocato buona parte di tempo, anche secondo me più di 15 minuti in tre... Siamo venuti fuori bene, ci siamo rimessi in piedi, nonostante lo svantaggio anche numerico dei giocatori, secondo me è stata sempre una partita... Sì, quando siamo tornati in quattro, diciamo abbiamo creato qualcosa che noi, è stata una bellissima partita... Grazie a tutti!